Buongiorno a tutti, con il video di oggi proseguiamo nella lettura e nel commento del diario di Ugo Cavallero, un testo che ormai è divenuto fonte essenziale, seppur con tutte le possibili riserve che conosciamo, che sappiamo, qualsiasi diario non è mai la rappresentazione autentica di quello che un personaggio fa, oppure quello che in qualche modo dovrebbe fare, o quello che accade nelle sue situazioni, però abbiamo avuto modo di vedere, soprattutto perché molte parti ci sembrano assai grottesche, molto spesso, come ci domandiamo per il caso di Ciano, perché Ciano ha scritto il diario, ecco, e molto spesso noi ci domandiamo, ma perché Cavallero ha scritto questo diario, un diario misto tra l'auto, l'autoincensamento, non so se si dice così, l'incensazione, non lo so, la piaggeria pure semplice, un ottimismo smaccato, un ottimismo che in qualche modo appare anche per certi aspetti ridicolo, e soprattutto è un diario in cui egli annota dei dettagli che i posteri, o comunque anche lo stesso Mussolini, qualora fosse servito per giustificare se stesso di fronte al suo capo diretto, evidenzia una certa sproporzione nei contenuti, in cui appunto si dà quasi la stessa importanza al tipo di tacchi da usare per le scarpe, rispetto alla consistenza della quantità di materiali presenti al fronte per una determinata operazione militare. E questo va da sé che in qualche modo ci fa vedere anche gli elementi più autentici, potremmo dire, più rispondenti a quello che accadeva, accadeva una situazione talmente babbelica, talmente aggrovigliata all'interno di diversi approcci organizzativi, diversi approcci di comando, diverse sensibilità, ovviamente molto spesso legate a ambizioni personali, a riserve mentali, a idee e modi non tanto per ottenere il bene comune ma per ottenere il bene proprio e questo ahimè è un po' forse un po' il filo rosso che unisce tutte le perline della vita di Cavallero fino appunto alla sua morte. Siamo arrivati al 23 novembre 1941 e siamo a rappresentare una situazione variabile sotto gli aspetti operativi in cui le dinamiche del fronte dell'Africa settentrionale offrirebbero un qualcosa di positivo ma allo stesso tempo con problemi di ordine organizzativo che l'Italia si trova sempre un po' a ricasco della Germania e non solo a ricasco della Germania ma a dover subire anche le intraprendenze quando di Rommel, quando di Kestering, quando di Hitler stesso e in tutte le dinamiche si vanno a intrecciare all'interno dei vari fronti che in qualche modo sono sempre interconnessi tra di loro. 23 novembre il duce presa visione del telegramma di Rommel e vediamo cosa scrive Rommel. Generale Bastico non ha finora esercitato alcuna personale influenza nella battaglia per ulteriore condotto operazioni in corso è urgente necessaria unica direzione forze operanti marmarica e cirenaica prego affidarmi questa direzione unica decisiva per l'esito della battaglia. Firmato Rommel. Quindi emerge come dicevo una diversa sensibilità sostanzialmente Rommel spiattella nonostante le filiere di comando che inserirebbero Rommel all'interno di una cadena di comando ben determinata, ben definibile che passerebbe attraverso Bastico. Bastico in quel momento governatore civile militare della Libia, comandante supremo dello scacchiere dell'Africa settentrionale invece viene scavalcato e Rommel si riferisce direttamente a Roma dicendo Bastico non capisce niente, non è all'altezza, voglio io tutto il potere esecutivo in Nord Africa. E sappiamo come è un grosso problema, un problema che si protrarrà ancora per almeno un anno abbondante, almeno fino al gennaio-febbraio del 43, quindi siamo a novembre del 41. Quindi il duce letta questa cosa ha telegrafato a Bastio per il comando unitario della battaglia in Marmarica affidandolo a Rommel, quindi diciamo che dà ragione a Rommel. Virgolette. Dall'insieme e situazione trago ferma convinzione che la condotta a battaglia Marmarica deve essere unitaria. Ho quindi deciso che tutte truppe Marmariche, compreso perciò Corpo Gambara, passino immediatamente ordine generale Rommel, che assumerà quindi condotta in tierra azione sotto vostro comando. Conto più che mai sul valore e la tenacia dei comandanti e dei soldati d'Italia. Mussolini. Mussolini capisce che Rommel è il cavallo vincente, quindi non può puntare su altri. La situazione finisce il virgolettato. La situazione in Sirenaica è ancora molto seria. Rommel dichiara di aver distrutto 207 carri armati nemici e 50 ne ha distrutti la riete, liquidato un terzo delle forze nemiche. Alle 9.05 convoco il trenta colonnello Montezemolo e il colonnello Ame. Notizie sulla seconda divisione corazzata inglese. Chiedo a ciascuno di fare indagini circa l'esistenza o meno di questa unità che finora non è comparsa sul campo di battaglia. Ricevo l'eccellenza Favagrossa. Situazione del Lansaldo. L'inopportunità di fare un'inchiesta da altri che non sia rocca perché demolirebbe il principio di autorità e darebbe modo agli avversari della detta di fare il loro gioco. E qui emerge anche i vari conflitti di interessi reali o ipotetici. Ricevo al genere Forrintelen. Notizie del corpo Rommel. Situazione in complesso si delinea meglio di ieri. Desiderio di Rommel di avere il comando di tutto. Concordo e mi riservo di dirlo al duce. Emergono le varie sfaccettature di questa faccenda. Carburante per l'aviazione. Il giorno 19 Pricolo ha assicurato che vi erano tre settimane. Anche se la cifra è inesatta almeno una c'è. Si consolano un po' così con le sufficienze. Inoltre abbiamo sbarcato molto carburante. È in viaggio il Filzi che in serata è a Tripoli. La notte è passata Franca. No Franca una ragazza. Franca in senso di serena diciamo così. Ricevo l'eccellenza Squero. Argomenti. Assunzione di Rommel al comando unico. Decisa stamane e sanzionata da telegrammi. Annuncio di arrivo a Tripoli del Catorna e di due piroscafi. Il Filzi è annunciato a largo. La Mantovani parte questa sera. Aumento di organici. Quindi diciamo che si lavora in maniera febbrile. Riprendo il telefono all'eccellenza Fouget. Il Filzi è giunto a Tripoli ed è e sta sbarcando ben 4000 fusti di benzina Avio. Io ho 88 da caccia notturna. Sono arrivati. Caccia 3, 42. 17esimo gruppo. Arrivato a Tripoli più 36 macchi 202. Quindi diciamo che c'è una consistenza giudicata buona. Riprendo il colloquio con eccellenza Squero. Mie disposizioni per la partenza del diciassettesimo gruppo da caccia e mancata esecuzione. Quindi c'è sempre un problema. Ha liquidato Prigolo poche ore prima, pochi giorni prima e con Fouget. Non è che le cose in questa collaborazione con l'Aeronautica non è che sia così fattiva. Ricevo in genere K. Possibilità di invio di una squadriglia aerosilluranti a Bengasi. Affluenza di aerei in Africa settentrana italiana, affluenza carburanti in Africa settentrana italiana. Quindi diciamo che c'è sempre questa attività di rincorsa delle necessità. Telefono il Duce. Abbiamo un telegramma incompleto ma con buone notizie. Distrutti 12 aerei nemici, la quarta brigata inglese risulta distrutta. Non si parla più di Sidi Omar né di Bardia. Sidi Omar potrebbe anche darsi ma non sarebbe grave. Il Duce invia il seguente messaggio al genere Bastico, virgolette. Fate pervenire ai comandi e alle truppe che operano nella Marmarica il mio vivo elogio per loro superbo comportamento. Alta. Fate sapere a tutti che il paese esegue con il più profondo interesse le sorti di questa battaglia dove è impegnato l'onore delle nostre armi e dalla quale dipendono le sorti della guerra. Alta. Fate sapere al genere Gambara che la tenace resistenza e lo spirito aggressivo della divisione Ariete sono un alto titolo di onore per le truppe corazzia italiane. Alta. Sono certo che il corpo d'armata di manovra saprà affermarsi decisamente e nettamente in questa prima grande prova che esso affronta agli ordini del suo valoroso comandante. Alta. Dita il genere Navarrini che segue con particolare attenzione e con fiducia e con sicura fiducia azione del suo trentunesimo corpo. Alta. Comunicate questo telegramme anche al genere Rommel. Alta. Mussolini. Diciamo che elogi non si negano a nessuno in questo momento. 24 novembre. Chiedo a Fouget di fare uno sforzo con l'aviazione della Sardegna a favore della battaglia in Marmarie. Quindi si cerca un po' di trovare tutto quello che è possibile. E sappiamo che Fouget fa non sempre quello che dovrebbe, anzi quello che si aspetterebbe Cavallero. Si rialinea l'accerchiamento della settima divisione corazzata inglese. Rommel ha inviato due distaccamenti per alleggerire la pressione sulla Savona. La notizia della presa di Bardia è falsa. È caduta sollum. Qualche alterna vicenda c'è, ma non grave. Battaglia molto dura. Fouget mi dipinge Kessering come un uomo molto amico dell'Italia, molto sereno ed equilibrato. Fouget che fa le referenze di Kessering all'indirizzo di Cavallero. Il suo ufficiale d'ordinanza è italiano. Kessering è un uomo che odia l'ufficio e la burocrazia. Bisognerà evitare che giri molto, pur lasciandogli l'assoluta libertà d'azione. Non si capisce bene chi deve fare cosa. Kessering è un amico dell'Italia, però diciamo che dobbiamo in qualche modo indirizzare il suo carattere verso qualcosa che ci interessa a noi. Sappiamo che non sarà così. Telefono a Squero. Sono nettamente contrario alla costruzione di nuovi enti provocati dal desiderio dei burocrati. La distruzione di materie prime è e deve essere competenza del Fabri Guerra. Bastico propone di sostituire il Gere Gambara nel comando del Corpo d'Armata che sta manovrando allo scopo di conservarlo come capo di Stato Maggiore. Probabilmente perché Gambara... scusate che Bastico, conoscendo Gambara, vuole tenerlo più vicino a sé rispetto a lasciarlo con Rommel. Vabbè. Telegrafo che Gambara conserva il comando nell'attuale battaglia dalla quale dipendono le sorti della Libia. Giustamente Bastico propone qualcosa e non gli viene concessa. Secondo informazioni giunte, Bardia sarebbe isolata. Ne chiedo, conferma Bastico. Colloquio con l'eccellenza Riccardi. Argomenti. Forza navale nemica e suoi probabili intendimenti. Nostro convoglio in partenza e predisposizioni relative. Partenza della Petroliera Mantovani. Necessità di una potente scorta. Studio per l'invio di un battaglione di gare della Lettorio alla Riete. Nafta. Raccomando di insistere presso Weichold per l'invio dei quantitativi promessi sommergibili e caccia sommergibili Torpediniera Castore. Dotata di nuovi apparecchi di avvistamento ecoconiometro. Successo dei siluri elettrici tedeschi. E qui un purpurri di argomenti. Telefono a Riccardi. Minaccia a un nostro convoglio. Invio aerosilleranti da Bengasi. Telefono a Fouge. Minaccia a un altro convoglio. Fouge assicura che ha già disposto per gli aerosilleranti i ritieni che arrivano in tempo. Mi rego a conferire con il Duce. Telefono all'ammiraglio Riccardi. Però non ce lo dice cosa dice col Duce. Telefono all'ammiraglio Riccardi. L'incontro con Reder è approvato. Telefono al Duce. Bastico ha telegrafato che la notizia inglese della presa di Bardia è falsa. Vabbè. 25 novembre. Faccio spedire all'eccellenza Bastico seguente telegramma. Vediamo cosa gli dice. Virgolette. Presenza autocarri a sud Michili. Presenta conferma notizia di puntata nemica verso centri vitali nostri. Questo comando non dubita che abbiate provveduto con i mezzi disponibili ma desidera essere avvisati importanti episodi e vostra votazione. Ci fidiamo ma fino a un certo punto. Qui finisce il virgolettato. Telefono all'eccellenza Ostaventuri. Notizie continuano ad essere buone. Qualche situazione alterna. Un caposaldo che cade, un altro che resiste. Ma abbiamo l'iniziativa del movimento. Richiesta dei tedeschi di 12 treni al giorno per la Sicilia per il nuovo CAT, il corpo aereo tedesco. 12 treni al giorno addirittura. La sacca è chiusa. Vi è qualche tentativo da sud per sbloccare. È caduto un caposaldo ma la Savona resiste tenacemente. Il presidio di Gialo è circondato ed è in situazione non troppo buona. Battaglia sempre accesa e possibilità di alterne vicende. Abbiamo dei movimenti, delle attività di avanzata e di ritirata. Comunque c'è una certa fibrillazione sul campo di battaglia. ricevo l'eccellenza Foucault. Argomenti. Situazione del gruppo da caccia di Milano era stato dato come pronto per il 27 novembre, invece risulta non ancora pronto. Del sesto gruppo di apparecchi cominciano appena ad uscire dalla ditta. Potrà essere pronto per fine dicembre addirittura. Prego Foucault di fare accertamenti circa lo stato in cui si trovava il sesto gruppo alla data del 20 ottobre scorso. Possibilità di invio di altro reparto in Libia. Nono e diciassettesimo gruppo. Foucault è incalzato quotidianamente da Cavallero perché dice voglio truppe, voglio reparti che siano pronti, che siano efficienti, che siano determinanti per la battaglia che si sta svolgendo al di là del Mediterraneo. Potrebbero partire circa 24 apparecchi entro pochi giorni. Potrebbero, potrebbero entro pochi giorni. Le siluranti in Africa settentrata italiana sono 14 tutte munite di siluri. Non esco perché una silurante non sia munita di siluri sembra un controsenso però diciamo un po' come dice il gas che non è allo stato gassoso. Può essere il gas non allo stato gassoso e ci può essere quindi anche una silurante che non abbia siluri. Programma per primavera. Si pensa già alla primavera. Affermo la necessità di avere 200 siluranti in linea, esame delle varie specialità, caccia, caccia notturna, tuffo, ricognizione e bombardamento. E dei tipi di apparecchi più idoni, impiego dell'aviazione contro i carri armati. Prospetto la necessità di un apparecchio armato di cannoncino idoneo allo scopo. Chiedo a Foucault è di mettere allo studio la costituzione di uno stormo anticarro. Nave portaerei prospetta la sensazione che non vi sia stata la necessità buona, necessaria buona volontà per quanto concerne gli aerei. Il grosso problema a chi compete la portaerei se poi gli aerei non sono gestiti da te, da qualcun altro eccetera. Devi essere debitore nei confronti di qualcun altro a livello operativo. La portaerei non si è fatta. Mi rego a conferire con il Duce. Telefono all'ammiraglio Riccardi. Argomenti. Situazione nel Mediterraneo di due gruppi di unità navali, un gruppo di tre incrociatori e caccia. Pare ci sia anche una portaerei. Scopo probabile? Impedire i nostri rifornimenti. Prospetto le seguenti necessità. Portare carburanti con tutti i mezzi celeri possibili a Bengasi. Occorre anche benzina avio tedesca richiesta da Forrintelen a mezzo incrociatori. Portare un battaglione di carri. Portare derrate perché i viveri cominciano a scarse passeggiare. Bisogna però parlare di nafta con gli alleati. Facciamo il calcolo dei consumi. Programma entro domani mattina. Tutto un elemento febbrile nella richiesta di materiali, di strutture, di elementi, di cose che sempre servono così. L'acqua alla gola. Telefono all'eccellenza fuci argomenti. Udienza dal Duce con Von Paul e Forrintelen. Situazione nel Mediterraneo è da prevedere che continuerà e che il problema è connesso a quello della Libia. Se non si agisce contro i mezzi di superficie nemiche siamo paralizzati nei trasporti. I tedeschi posseggono aerosiluranti. I siluri che noi facciamo a che servono risponde che sono per l'Atlantico. ecco. E qui anche qui l'elemento di economia dei fronti. E allora dico che dobbiamo impostare chiaramente i tedeschi la questione. A noi, le aerosiluranti, a loro il bombardamento. Quindi è una questione proprio di principio nelle funzioni e nelle competenze. Asserisce Cavallero. Azione anche da Creta a cura dei tedeschi. Il problema fondamentale da porre al manesciallo castering è il disturbo della flotta nemica. Telefona l'eccellenza Riccardi. Cari armati per la Libia. Scelta del porto. Napoli o Taranto. Riccardi decide per Napoli ove do pertanto ordine di farli affluire. Telefona l'eccellenza Fouget. Argomenti. Grado di approntamento di reparti da caccia per la Libia. Prego inviarli possibilmente anche per squadriglia man mano che sono pronti. La sacca è stata ripulita e vi è materiale impiegabile. A sud di Gambut vi sono resti della settima e ottava divisione inglese che stanno per essere soverchiate. Parecchi aeronemici abbattuti, ma è sempre sentita la superiorità dell'aviazione nemica. Quindi occorre provvedere al più presto. Ricevo il generale Intelen e il barone von Neuerath, figlio dell'ambasciatore. Nonché che era stato anche ministro degli esteri von Neuerath. Argomenti. Situazione incirenaica. Telegrammi di Bastico circa giramento di El Faja. Entità delle forze nemiche e delle perdite inflitte. Von Neuerath non è ancora in grado di precisare analogamente per i prigionieri. Carburante. Von Neuerath esclude preoccupazioni gravi. A riguardo. Se von Neuerath è ottimista non può che esserlo anche cavallero. Telefono all'eccellenza Fouget. Arrivo del maresciallo lo castering giovedì o venerdì mattino. E' atteso. 26 novembre. La sacca è abolita. 6.000 prigionieri di cui due generali. La manovra alle spalle del nemico che fronteggiava la Savona ha portato le nostre truppe a contatto con la Savona. Catturando 20 carri. Vi sono ancora sussulti nell'interno dove hanno sopraffatto un reggimento tedesco. Il nonno bersaglieri ha ristabilito la situazione. Riferisco a Forrintelen che è in corso il concentramento a Taranto di carburante per l'invio. Mezzi disponibili per il trasporto, caccia, biroscafi, petroliere e sommergibili. Occorre scegliere tra l'invio di viveri o del battaglione di carri armati. E' una scelta amletica, potremmo dire. Rapporti tra Comando Supremo, Maresciallo Castering, Aeronautica e Marina. La madre di ogni problema. Contatto con la reggia marina deve avvenire tramite Comando Supremo. Telefono all'Eccellenza Riccardi. Partenza della nave ospedale, arrivo del maresciallo Castering. Convoco il comandante Girosi, accordi col maresciallo Castering, siluramento di una nave da battaglia da parte dei tedeschi. Convoco il tenente colonnello Ferretti, legname, patate e cereali da requisirsi in Croazia. La Croazia fa il suo apporto. Ricevo il generale Chierici della CIAF, la Commissione Italiana Armistizio con la Francia, argomenti in rapporti fra l'ammiraglio Farina e il generale Végan, situazione dopo la partenza di Végan, ripercussioni probabili della sconfitta inglese in Marmarica sulla situazione del Nord Africa francese. Il generale Chierici esclude possibilità di aggressione da parte del Nord Africa francese perché non ha i mezzi per alimentare una guerra, a meno che siano organizzati dagli inglesi o dagli americani. Notizia di uno sbarco eventuale di decollisti a Dorano e ad Algeri. Quindi già bolle in pentola, già nel novembre del 41, qualcosa che si realizzerà quasi un anno dopo. Alle 20, telefona all'eccellenza Fouget, cemento per piste richiesto da Forrintelen. Non ci siamo fatti mancare niente il 26 novembre, abbiamo parlato di legname, patate, cereali e anche il cemento per le piste. 27 novembre, telefono all'eccellenza Fouget, intercettazione di un telegramma circa Revo Kessering e circa i lavori delle imprese di costruzioni italiane. Ricevo il generale Forrintelen, argomento novità del generale Rommel. Incarico il generale Magli di fare il seguente telegramma a baltico, virgolette. Duce ha notato che in seguito al tentativo sortita nemica da Tobruk si è assottigliato il diaframma contro il quale premono le forze inglesi. Duce non dubita che avrete preso tutte le misure necessarie per impedire avanzata nemica e riprendere profondità. Comunque desidera notizie al riguardo. Finisce il virgolettato. Quando si parla dice non dubita che voi senza dice sappiamo che non avete fatto niente, dovete farlo. Tra le righe mi sembra questo. Siamo sicuri che avrete fatto tutto il necessario. Significa fallo perché so che non l'hai fatto. 28 novembre. Ricevo l'ammiraglio Riccardi. Argomenti, modalità di ricevimento del maresciallo Kessering. Memoria scritta da presentarsi al predetto in materia di collaborazione di rapporti. Programma trasporti carburanti. Dati sulle partenze e sui quantitativi trasportati. Esami delle rotte. Sfasamento della partenza in base alla velocità dei mezzi. Data delle partenze non verrà prorogata anche se la luna non è favorevole. situazione ristabilita a cura dei nostri reparti. Caposaldi ripresi. Il diaframma attorno a Tobruk è ancora modesto. Unità corazzate stanno avanzando sia pure con difficoltà per formare la massa. È un quadro logico di battaglia. Arrivo del maresciallo Kessering. c'è una nota. Giunsi a Roma il 28 novembre 1941 precedendo il mio stato maggiore e potei subito rendermi conto delle difficoltà di dirigere una guerra di coalizione. Mussolini, per farmi una cosa gradita, aveva effettuato un mutamento del comando di superaereo affidandolo al generale deviazione Fouget che conoscevo dall'epoca in cui egli comandava il corpo aeronautico italiano durante la battaglia d'Inghilterra. E non è che avesse fatto una grandissima figura, aggiungo io. Ma il capoestro maggior italiano, maresciallo Cavallero, aveva rifiutato di porre sotto il mio comando le forze militari navali e da aeree italiane che mi sarebbero state affidate nell'esecuzione del mio compito. E che Cavallero affidava a Kessering? Cioè, vabbè, c'era nella naso Cavallero. Egli dichiarò che ciò avrebbe significato per l'Italia l'abbandono della propria autonomia. E non è che è così che era. Al massimo si dichiarò disposto a cedermi il comando dei reparti d'aviazione. Con questa mezza misura non si sarebbe ottenuto nulla di buono. Contrariamente alle disposizioni di Hitler, rinunciai quindi alla mia richiesta, ma vogli che mi venisse assicurata in compenso una collaborazione intera e fiduciosa da parte di tutte le forze armate italiane. Il marcello Cavallero mi promise che il comando supremo non avrebbe emanato nessun ordine circa le misure da prendere sul teatro di operazioni in Italia-Africa senza la mia partecipazione e la mia adesione. Tale propessa venne poi infatti mantenuta. Oggi debbo riconoscere come questa concessione, la quale teneva conto del sentimento nazionale e del forte orgoglio degli italiani, abbia reso possibile un'efficace azione comune. La collaborazione del marcello Cavallero fu sempre ottima e leale, dice Kessering. dice lui. Va bene, dovremmo vedere un po' come vanno le cose del settembre del 43. Va bene, continuiamo. Telefono, continuiamo col diario. Telefono all'ammiraglio Riccardi, insufficiente protezione a Navarrino, causa partenza della caccia che era dislocata in quella località. Telefono all'eccellenza Fugé, bombardamento di stamane a Navarrino, incendio del Berbera, necessità di sostituire la caccia che era colà e che è partita per la marmarica. Ricevo il genere De Vito, argomenti, richiesta in saldo, motovelieri veloci da 500 tonnellate, richiesta di blooming per accelerare la costruzione delle piccole navi. Telefono all'eccellenza Roatta, redivivo Roatta, non lo sentiamo da tanto tempo Roatta. Invio, come cavo di Stato Maggiore dell'Esercito, è sempre messo da parte. Invio di carri in Africa e Settentrione italiane, mia direttiva, non mandare roba sfusa, bensì reparti organici. Mandare gli equipaggi per i carri armati recuperati. Comunque alimentare la battaglia nel migliore dei modi. 29 novembre. Mi rego a conferire con il Duce. Ricevo il GE for Rintelen. Il GE for Rintelen torna sull'argomento dello schema di collaborazione con la Luftflotte, nel senso che il comando Kessling dovrebbe poter dare ordini alla nostra marina. Fa orecchia da mercato. Che cosa hai detto Rintelen? Non ho capito Rintelen. Rispondo che desidero ottenere la collaborazione ad ogni costo, ma che il comando Supremo non può e non deve abdicare alla sua funzione e che la marina italiana dipende dal comando Supremo. Eh? Come volete dimostrare. Che cosa hai detto Rintelen? Non ho capito. La prossima volta parla più forte perché non ho capito. Questo ovviamente è un elemento, un ritornello che tornerà ricorrente. Già c'era stato, ma tornerà sempre più con una forte consistenza. fino sostanzialmente all'8 settembre del 43 in cui i tedeschi reglavano sempre una loro superiorità che poi sarebbe sostanzialmente una loro... Vabbè, lasciamo a perdere. Sono molto, molto superbi in questo, molto soffocanti, molto occupanti. Ecco, poi ne parleremo ovviamente. Ci torneremo, no? Ne stiamo parlando in questi mesi, no? E poi ci torneremo comunque quando affronteremo un po' una sorta di giro di boa e ritorneremo un po' un po' alla Quentin Tarantino a ritornare a parlare di quello che sarà la primavera del 43, l'estate del 43, a un altro giro di giostra. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!